Vento ne abbiamo? Come al solito, qui ad Alli di Classe siamo pieni di vento. Approfitto perché abbiamo finito la giornata lavorativa e quindi tiro fuori il nostro landing pad di Light Take per farci una bella recensione sopra. Innanzitutto grazie a Light Take per avercelo spedito insieme al caricatore multiplo per il Mavic di cui trovate la recensione qui o qui sopra da qualche parte e anche per averci spedito quel fantastico zaino di cui abbiamo fatto l'altra recensione che troverete sempre qui o qui da qualche parte in alto sul nostro video. Quindi vado alle ciance e diamo un'occhiata come funziona questo landing pad. È semplicissimo ed è comodo perché è veramente veramente minimo, minimal. Guardate le dimensioni, piccolissimo. Andiamo ad aprirlo con questa zip e andiamo a vedere cosa c'è all'interno in dotazione. Allora, innanzitutto c'è il landing pad vero e proprio. Avete presente quelle tende che si comprano da Decathlon, le Ketsua, le Two Seconds? Ecco, il funzionamento è lo stesso. Quindi io non faccio altro che tenere il lembo di una parte del landing pad e... Voilà! Aperto il landing pad, double fast, leggerissimo, portabilissimo. Se non avete pratica con le tende Ketsua state in occhio per la chiusura, ma la chiusura è abbastanza semplice. Andiamo a chiuderlo prima a metà, un giro e mezzo e voilà! Abbiamo richiuso il nostro landing pad. All'interno del pacchetto, del sacchetto, abbiamo anche quattro picchetti che servono per fissare l'handing pad a terra. I picchetti vanno all'interno delle apposite asole. Per quanto riguarda le dimensioni, per darvi un'idea della grandezza, me lo hanno venduto per il Mavic, ma come potete vedere, insomma, ci stanno anche mezzi un pochino più grandi. La cosa che bisogna saper fare, poi eventualmente, è riuscire a riatterrare nuovamente sopra il nostro landing pad. Quindi test di decollo e di atterraggio. Spero vi sia piaciuta anche questa recensione, se vi è piaciuta cliccate mi piace, iscrivetevi al mio canale e sotto nell'info box troverete tutte le info di dove trovare questo fantastico landing pad firmato Lightake. Ciao a tutti!